Ieri mattina abbiamo anticipato le contestazioni del sindacato riguardo l'assestamento degli istituti comprensivi clodienzi. Ieri sera abbiamo recuperato la delibera della giunta comunale in cui sono riportate le modifiche apportate. Il calo demografico c'è ed è tangibile nelle classi che anche a Chioggia sono scomparse, come è palese che alcuni edifici scolastici necessitino di importanti riqualifiche. Gli accorpamenti implicheranno trasferimenti che sono stati studiati con attenzione dall'amministrazione in modo da razionalizzare il sistema scolastico locale. In pratica la scuola dell'infanzia Padoanna di Chioggia sarà collocata presso il plesso Marchetti, la Gregorutti sarà accorpata alla Marchetti, primarie entrambe, la scuola secondaria di primo grado Pascoli sarà accorpata alla scuola secondaria di primo grado Galilei e la scuola dell'infanzia Padovan di Sottomarina sarà trasferita presso il dell'attuale scuola secondaria di primo grado Pascoli. La scelta non è caduta dall'alto ma è stata frutto di un dialogo e di confronto con le istituzioni scolastiche e le sigle sindacali. Dal prossimo anno scolastico, quindi 2024-2025, gli istituti comprensivi saranno tre. Nel frattempo sarà dato il via agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento dei locali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.